The winner is... Dove ne vi rilasciate? Una volta entrati in casa di Sid, non ne usciremo più vivi! No! Buzz? Acuccio, ecco bravo, ho una bella cosa per te! Pronto? Vai! I giocattoli sono vivi! È proprio andato! Piccolo delinquente! Preparati a morire! Saranno fatti a pezzi! Esemplare è pronto per la pulizia! Saffichi noi giocattoli! Veniamo tutto! E perciò... Riga dritto! E ci sono due mille pericoli! Salve gente di YouTube, sono l'uomo carpa, fondatore della Skillinberto Production! Piaciuto il re-cut trailer? Ma cosa? Ne volete davvero altri? Beh, allora perché il prossimo non lo scegliete voi? Esatto! Proponete un re-cut trailer attraverso un commento! La proposta più originale verrà scelta! Quindi commentate! Coglioni! Questo è tutto! Io vi saluto con un epico... Bleh! Coglioni!